Steve, allora da quanto tempo è che sei in Cina? Sono in Cina da 20 giorni, oggi ci stiamo preparando ad andare sul Great Wall, la grande muraglia cinese, sarà un'esperienza unica credo. Quando è la prima volta che sei venuto qua in Cina? Sono venuto nel 2014 la prima volta. Quanti anni avevi? 23 anni. Giovanissimo. 23 anni, giovanissimo. Poi ogni anno abbiamo continuato a fare nuovi tour fino ad ora, siamo al quarto tour ho 27 anni. No, sono emozionato per oggi, ti dico la verità, sono emozionato, che suonare in un posto così non è una cosa che ho capito spesso, è come suonare in Italia sul Colosseo, sono carichissimo. News. Videopoli duri suonare in Italia, la placa del pallone un po' del prodotto, la placa del pallone Anche iniziata in Italia. Dave, sei pronto? Sono pronto, man! Soprattutto ho dato da punti di essere. Soprattutto ho guardato ora. Sono pronto, raggaetone. D'hai spazzito, eh! Il pallone di giovancia, preggetono, reggaetone! È spazzito, eh! Ha everitato. Soprattutto, raggaetone. 1, 2, 3 1, 2, 3 Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Una fase incredibile, bellissimo. Hello, it's Edu. And here's Steve. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una festa incredibile. È stato un momento veramente incredibile. È molto difficile da descrivere a parole perché è un'emozione. Un'emozione che senti dentro. Ho visto altra gente che si commuoveva. E ci tengo a ringraziare tutti quelli che erano lì. I promoter che hanno reso possibile questo. Il mio amico grande John che insieme a me sta costruendo questo progetto di Steve in Cina. Ci vedremo il prossimo anno con un nuovo tour sicuramente. E a tutti voi ci vediamo al prossimo video. Ciao.